ciao a tutti benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come abilitare il gpu scheduling via hardware in windows 10 che cos'è praticamente con i recenti aggiornamenti delle schede video nvidia e md è stata rilasciata una funzionalità che permette alla scheda video di gestire la memoria invece che il sistema operativo in questo modo si hanno diciamo prestazioni migliori e si riduce la latenza come fare andate nello start impostazioni sistema schermo scendete in basso impostazioni grafica e attivate questa opzione dopodiché riavviate il pc in questo modo sarà la vostra scheda video a gestire la memoria e non il sistema operativo e ciò ne consegue che avrete migliorie in gaming